ciao ragazze bentornate ruota la spesa al todis allora abbiamo preso una confezione di uova da quattro bio una confezione di patate feste poi una confezione di dessert alla vaniglia da 4 una passata del cuore mediterraneo chiele di granchio una birra una bottiglia di vino russo delle patatine gusto paprika una besciamella piccola e una panna confezioni di carne sono per fare le scaloppine poi un formaggio a pasta filancia un pacco di farina due provole una confezione di pangraffiato una confezione di piadine un attimo e ritorno poi continuando allora una confezione di rucola poi una confezione di lind assortiti una pepsi poi delle banane uva zucchine pere macinato gordon bleu fusilli di pollo un po' di affettanti tra mortadella cotto e crudo salmone scozzese poi pomodorini altre due confezioni da una panna e una besciamella mele mele poi una bottiglia di vino bianco e una bottiglia di lambrusco una confezione di latte e infine altre mele questo è quanto alla prossima ciao ragazze ciao ragazze nuovo spezzone di suota la spesa per quanto riguarda il deco e poi siamo andati a prendere le cialde allora queste qua di ginseng allo ginseng al ginseng del di barbaro e ne abbiamo prese due due confezioni al deco allora abbiamo preso il petto di tacchino due buste di latte una e due due bottigline di coca una e due una birra poretti poi abbiamo preso le tagliatelle della russo un po' di macinato una busta di vanini soffiati e un'altra birra moretti questo è quanto al prossimo ciao ragazze ciao ragazze allora altro giro per quanto riguarda lo suo della spesa allora un po' di deco md insomma i vari supermercati che andiamo sempre allora abbiamo preso una pussa di patate un pezzo di pane una confezione di cornetti vuoti poi del tè lipton una confezione di latte parmalat puro blu ciobar zucchero di canna birra fisher un pacco di farina barilla e una confezione doppia di pepsi un attimo e ritorno poi continuando allora abbiamo preso lo scotex della wow quello grande poi abbiamo preso una bestecchiera questa qua così che ha il manico che si chiude poi invece da fruttivende l'abbiamo preso un po' di odori e carote mandarini mele uva bianca e uva frangola poi delle mele bianche poi cipolle patate delle zucchine dei kiwi e delle mele altre mele un attimo e ritorno al deco allora c'è la presaola due confezioni di teneroni una confezione di plan cake plan cake un pacco di crackers gloria dorian una confezione di baiocchi poi un vino frizzante quanto riguarda articoli casalinghi allora abbiamo codex pruna poi assorbenti vines poi cera l per i pavimenti di marmo una confezione di elastici dei cotton fioc della seta blu un diodorante all'orchidea di quelli per gli ambienti e un altro all'olio di argan questo è quanto alla prossima ciao ragazze ciao ragazzi allora nuovo video svuota la spesa casalinghi e quariche come se fosse due voi allora per quanto riguarda i casalinghi abbiamo preso le spugnette ho preso questo spazzolone poi un altro pacchetto di spugnette una padella poi dell'ovatta deodorante per la macchina sapone igienizzante per le mani poi sale della wix per la lavassoriglie poi l'intimo fresco alla menta ad azione antibatterica della venus tagliatelle della rosso dei formaggi a cozzettini della viraghi poi una cassosa delle pesche sciroppate infine confezioni di pasta della carofano che sono i sigaretti ziti questo è quanto alla prossima ciao ragazzi un nuovo spazzolo di spesa al tolis allora i funghi misti congelati fuselli di pollo crostini poi abbiamo preso la cacciotta una confezione di uova fresca i panini sfiati sovraccosce di pollo arance cubetti di cotto piadine salmone scozzese mandarini una confezione di farina due passate due passate due passate due passate coro mediterraneo parmigiano 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 sia il pezzo grande che è un po' già grattugiato una bottiglia una bottiglia di vino rosso e castagna e castagne una confezione di bitter se quanto alla prossima